Mi dispiace, vi giuro che mi dispiace per i tifosi del Barcellona, perché delle persone irresponsabili stanno distruggendo questo club storico e stanno creando soprattutto dei danni irreversibili. Io veramente voglio fare un po' di chiarezza con questo video parlando con numeri alla mano. Piccolo disclaimer, sarà un video pesante, anzi pesantissimo, difficile da digerire per tutti coloro che tifano per il Barcellona, però è inevitabile. Dobbiamo parlarne, alcuni non si rendono neanche conto, alcuni vedono Lewandowski, Rafinha sul campo, dicono che bello il Barcellona sta tornando, ma non sanno che il Barcellona per poter prendere Lewandowski che ha 34 anni e era in scadenza tra pochissimi mesi pagando 45 euro per questo calciatore e con altri acquisti veramente assurdi, il Barcellona ha dovuto vendere la sua anima e non per un anno, per due anni, per cinque anni, per 25 anni. Questi qui si stanno veramente autodistruggendo. Perciò in questo video faremo chiarezza, parleremo proprio, ripeto, con i numeri alla mano. Innanzitutto però, se mi volete bene amici, io vi voglio tantissimo, molto molto bene, seguitemi anche sul secondo canale, Giano Food, un tedesco assaggia il cibo italiano, dove viaggiamo in tutte le 20 regioni italiane, proprio per onorare il Made in Italy, soprattutto per dare visibilità anche ai piccoli posti, nascosti, posti locali della vera tradizione italiana. Un canale, un progetto che mi porta via tantissimi soldi, le spese sono altissime, gli introiti sono bassi rispetto a quello che spendo per un progetto che io ho nel cuore, perciò ho bisogno di voi amici, supportatelo, supportatelo, push ogni like, ogni commento, ogni iscrizione mi può veramente essere d'aiuto che questo progetto, secondo me meraviglioso, possa andare avanti. Sapete quanto sono ennamorato della cultura italiana. Allora, adesso parliamo del Barcellona. Innanzitutto Lewandowski non giocherà mai nella Liga Spagnola, punto interrogativo, questo titolo un po' provocativo, l'ho letto negli ultimi due giorni su tantissimi quotidiani tedeschi, è girato un po' trappertutto nei media da me in Germania. Io adesso vi spiego come mai la situazione del Barcellona è davvero drammatica. Innanzitutto, questo scrivono tutti i media, servono 100 milioni per registrare i nuovi acquisti e per rispettare i requisiti del campionato. Però, attenzione, secondo me, io vi parlo sempre senza aprire solo la lingua, riusciranno a soddisfare questi requisiti. Perciò in questa stagione li vedremo in campo con Lewandowski, con Rafinha, ma il prezzo, attenzione, che pagano per questo è veramente carissimo. Non mi riferisco a questi 100 milioni perché hanno trovato un metodo per avere liquidità, ma con questo metodo, secondo me, a lungo termine si stanno veramente autodistruggendo. Perciò, secondo me, sono dei responsabili che mettono proprio a rischio un club storico come quello del Barcellona. Allora, sapete che il Barcellona ha tantissimi debiti, solo nella stagione 2020-2021, attenzione, hanno perso circa mezzo miliardo. Mi sono anche scritto qui la cifra esatta, cioè la differenza tra introiti, o diciamo tra fatturato e tra spese, sono stati meno 481 milioni di euro. Cioè, questa non è la cifra totale dei debiti, no, questa è stata la perdita in una singola anata. Ma vi rendete conto? Il Barcellona ha bruciato in una stagione mezzo miliardo di euro, una roba allucinante, una roba veramente incredibile. Il Barcellona era praticamente fallito, diciamo, era vicinissimo al fallimento, aveva proprio raggiunto quel momento dove non sapevano più come pagare le loro persone, cioè non avevano più liquidità, erano vicinissimi al fallimento. Un economista direbbe, questi qui ormai sono quasi KO, come nel pugilato, no, quando viene l'arbitro e dice per l'ultima volta, conta per l'ultima volta e tu ti devi alzare. Qual è stata la soluzione del Barcellona? Hanno avuto bisogno ovviamente di cash, di liquidità e hanno venduto, attenzione, il 10% dei diritti audiovisivi ad un fondo americano. E questa secondo me è proprio disperazione, disperazione totale, perché la durata dell'accordo è di 25 anni e secondo me alcuni non si rendono conto della gravità di questa cosa. Qui i diritti televisivi sono fondamentali, specialmente anche in questo periodo, no? C'era per esempio questa crisi internazionale, i stadi chiusi, sapete tutti il motivo, perciò tanti introiti mancavano e quali sono gli introiti che diventano sempre più importanti? Ovviamente quelli dei diritti televisivi. Come mai la Premier League è talmente avanti rispetto alla Bundesliga, rispetto al campionato italiano? Perché lì l'ultima in classifica prende più soldi rispetto alle big in Italia. Perciò i diritti televisivi sono fondamentali e secondo me innanzitutto fissare una percentuale è molto rischioso. Se almeno avessero detto va bene noi fissiamo una civra esatta, e questa civa ogni anno la diamo indietro a questo fondo americano e i ricavi poi dei diritti televisivi aumentano sempre di più, uno può dire va bene anche con l'inflazione, tutto quello che abbiamo, può essere ancora una cosa abbastanza sensata. Ma fissare proprio una percentuale, questo significa anche se dovessero aumentare i diritti televisivi, aumenterà anche sempre la civa che devono versare a questo fondo americano. E fissare una durata di 25 anni è una roba veramente assurda. Cioè significa che tu per 25 anni avrai meno introiti rispetto alla tua concorrenza, sempre quando parliamo ovviamente a livello di percentuali. E adesso il Barcellona invece di ridurre le spese, invece di dire va bene ci siamo salvati ancora una volta vendendo proprio un pezzo della nostra anima, una cosa che non fa nessun altro club a questi livelli, è una follia totale, invece di ridurre le spese cosa hanno fatto? Hanno comprato Robert Lewandowski, quasi 34 anni, li compie tra tre settimane per 45 milioni di euro, giocatore in scadenza che tra troppo pochi mesi lo potevi prendere a zero. No, non potevi aspettare qualche mese e prendere Robert Lewandowski a zero? Robert Lewandowski che voleva solo il Barcellona, cioè non c'era nessun rischio che lui possa prolungare con il Bayern, che lui possa andare in un'altra scuola, no, lui voleva solo il Barcellona. Io dico, un po' di pazienza, avete lì davanti Uba Meian, altri attaccanti, dovete proprio prenderlo adesso, subito, con quelle enorme difficoltà che avete. No, il Barcellona doveva spendere, ripeto, quasi 50 milioni di euro per uno che ha 34 anni, è una roba veramente pazzesca, Raffinia, preso per 60 milioni, adesso arrivano Christensen, che si è a parametro zero, però perché arrivano al Barcellona? Per fare beneficenza? No, parametro zero poi è una cosa che non esiste amici, anche se non devi pagare i soldi per Cattelino, sono sempre soldi da pagare per tutto l'entourage del calciatore che ormai diventa una roba sempre sempre più grande, sono sempre più interessi, sempre più persone dietro a queste trattative mostruose e ovviamente devi anche pagare ingaggi altissimi, perché se no un Chessier sarebbe rimasto al Milan e non sarebbe andato al Barcellona e perciò anche qui tantissimi soldi spesi. Oggi ho letto addirittura che il presidente sogna di riportare Lionel Messi a Barcellona, ma come? Come lo vuoi riportare? Io veramente non ho parole. Poi Koundé che era vicinissimo al Chelsea, ma come riportano adesso tantissimi media spagnoli, e anche Koundé molto probabilmente sarà un nuovo giocatore del Barcellona. Anche lui viene valutato intorno ai 60 milioni di euro, perciò potete forse capire che questa cosa dei 10% dei ritti televisivi non basta. E perciò l'idea geniale del Barcellona, l'idea geniale della loro società, è di cedere altri 15% dei ritti televisivi. Due giorni fa sono usciti tantissimi articoli, li ho letti, li ho studiati per voi. E la mia sintesi è questa, amici, significa alla fine che, attenzione, il 25% dei ritti televisivi, già 10% erano tanti, adesso siamo arrivati già a 25% dei ritti televisivi, che ripeto nel calcio sono ossigeno per poter sopravvivere, andranno sempre direttamente nei Stati Uniti per i prossimi 25 anni. Anche questa è una cosa, io dico, va bene, se lo fai per due anni, per tre anni, quattro anni, cinque anni, diciamo, per sopravvivere, per uscire dalla crisi, ma farlo per 25 anni è una roba assurda, è una roba, io veramente non ho parole. E ripeto, alcuni esperti di economia, anche dai miei amici, parlano proprio di un fallimento a rate. E forse il piano del Barcellona è proprio di rischiare, di andare proprio all-in, di spendere anche in questa stagione tantissimi soldi, magari per costruirsi una squadra competitiva, magari per, che ne so, vincere la Champions League, andare avanti in Champions League, aumentare i ricavi sotto questo punto di vista, ma anche se lo fai, hai comunque creato un danno per i prossimi 25 anni. E attenzione, già adesso il Barcellona, a malapena, riesce a sopravvivere, immaginate, nei prossimi 25 anni, se questi qui vanno avanti così, e ogni anno gli mancano 25% dei introiti televisivi. Io penso che sia una roba assurda, se io fosse un tifoso del Barcellona sarei stra, ma veramente stra arrabbiato, ovviamente tutti questi calciatori, anche come Lewandowski, a loro non frega niente il Barcellona dei prossimi 20 anni, dei prossimi 25 anni, loro vogliono giocare adesso, subito, e li vedremo, io vi dico, noi vedremo Lewandowski, perciò questa notizia che gira, che non riusciranno a soddisfare i prequisiti della Liga Spagnola, secondo me sono non bufale, c'è la difficoltà, ma alla fine, ripeto, riusciranno ancora una volta a trovare questa liquidità, ed è una cosa però anche brutta, perché, ripeto, questi calciatori, a loro frega solo il presente, non gli frega il futuro del club, il futuro del club è veramente a grosso rischio, ma non potevano imparare da Ousmane Dembélé, preso per 140 milioni, Griezmann pagato 120 milioni per poi mandarlo in prestito all'Atletico Madrid, Coutinho pagato 135 milioni di euro per poi mandarlo in prestito al Bayern Monaco, per averlo contro, per perdere 8 a 2 contro il Bayern, per poi mandarlo in prestito all'Aston Villa, e per poi alla fine venderlo per 20 milioni di euro. Io veramente non ho parole, un club così storico, così bello, che ci ha fatto tutti un po' emozionare, io mi ricordo questo centrocampo meraviglioso, poi Pugliel, Ciavi, Inies, tutti questi grandissimi giocatori della Marcia, ma come si fa? Come si fa a gestire così male? Così male un club? Boh, io veramente non ho parole, non sono solo io che sono stupito, perfino i dirigenti del Bayern, Nuggets, ma così, tanti, tanti che stanno veramente dentro il calcio, dicono che sono perplessi, sono veramente perplessi. E adesso alcuni di voi diranno, ah già hanno però Spotify, hanno avuto un nuovo accordo, arriva nuova liquidità, va bene, va bene, ma vi rendete conto? È normale, tutti lavorano così. Ogni club prova di avere nuovi sponsor e di aumentare gli introiti, ma non puoi cedere il quarto dei diritti televisivi dei prossimi 25 anni per avere adesso Lewandowski sul campo, che c'è 34 anni, per magari giocare due anni bene con Lewandowski, ma è una roba assurda, una roba veramente assurda. Fatemi sapere un po' la vostra opinione sotto i commenti, iscrivetevi anche al canale YouTube, amici, per voi è un click, vi costa nulla, invece a me potete rendere veramente felici, purtroppo la maggior parte di voi guardano i video da nascosto e questo mi fa un po' male, perché ovviamente c'è tanto lavoro, tanta ricerca, tanta passione dietro questi video. Perciò grazie di cuore a tutti coloro che si iscrivono e ripeto, supportiamo anche Giano Food. Un abbraccio a tutti, adesso aspetto anche le vostre opinioni sotto i commenti.